Il 2020 è stato un anno molto difficile, ma le proiezioni su 2021 fanno ben sperare. È la sintesi del comitato esecutivo della FCA di Termoli che si è riunito alla presenza del team direzionale. Occasione per fare un bilancio dell'anno quasi concluso e per conoscere le prospettive del prossimo. I primi sei mesi hanno visto una contrazione del mercato dell'auto, dovuta alla pandemia soprattutto. Il terzo trimestre del 2020 ha segnato però un recupero e in maniera veloce continuano i lavori di restyling dello stabilimento per permettere l'avvio dei nuovi motori ibridi già dai primi di maggio del 2021. L'azienda ha confermato che per tutti i prodotti made in Termoli il prossimo anno sarà sicuramente migliore sotto il profilo dei volumi produttivi e questo potrà permettere il rientro in fabbrica di tutti i lavoratori entro la fine della prossima estate. Il 2020 sicuramente è stato un anno molto complicato, la pandemia ha impattato pesantemente a livello globale e soprattutto su quello che è il nostro settore automotive. Termoli fortunatamente dopo un inizio anno molto difficile c'è stata una bella ripresa in questa ultima parte dell'anno. C'è stato un incontro con la direzione aziendale dove si evince che il prossimo anno sicuramente grazie alla partenza del motore GSE ci sarà un ampliamento dei volumi produttivi e questo potrebbe consentire il rientro dei tanti lavoratori che sono ancora in cassa integrazione. Sicuramente avremo un primo semestre dell'anno ancora non semplice però le date indicative sono che a inizio maggio ci sarà la partenza del motore GSE, il famoso motore ibrido che nel tempo sostituirà il mitico FIRE e quindi diciamo che dall'estate in poi ci sarà una graduale ripresa per tutti i lavoratori. In materia di Covid i protocolli di sicurezza hanno evitato focolai interni alla fabbrica. Le segreterie sindacali nazionali hanno chiesto e ottenuto un rafforzamento ulteriore delle misure di sicurezza attraverso l'utilizzo di test antigenici e un miglioramento delle mascherine.